Musica Grazie, grazie Vai! Vai Cristian! L'applauso! Cristian! Il presidente della comunità di San Solina! Dei tole uschistionai, sughi o lazy? Penso che adesso per riuscire ad essere forti anche alle amministrative che non hanno niente a che vedere con le politiche dobbiamo darci un'organizzazione questa organizzazione non è, come si dice, calata dall'alto inizia una discussione però inizia una discussione su dei temi ben precisi Musica Mentre vi sentivo parlare mi sono domandata ma questi che criticano il reddito di cittadinanza ma che ne sanno di povertà? Dichiaro chiusa la votazione il senato approva Oh yeah Oh yeah Oh yeah Davi davadu Davi davadu Oh yeah Davi davadu 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 Davi davadu